Vapriva qua? Dove ce l'ho? Ok, cazzo. Andiamo a qualcuno, andiamo, guarda, se si deve venire non mi ci sapesse oggi, mi dice, se si dice prima di una cosa, andiamo a Tito, a qualcuno si deve venire. Chiunque sia, l'importante... Credo che complessivamente ci possiamo ritenere tutti, sia noi come l'imministrazione, ma credo anche l'Ecambiente, assolutamente soddisfatti sia per la quantità di volontari che ci sono stati sia sulla spiaggia sia in mare e che questo vuol dire che c'è sicuramente una sensibilità, la sensibilità è in aumento nei cittadini. Credo che queste iniziative devono proseguire nel tempo perché fanno sicuramente innalzare quello che è il senso civico dei cittadini che magari certe volte sono distratti da altri problemi e si preoccupano proprio e poco del proprio habitat. Quindi sono assolutamente contento della giornata.